Sono due aspetti molto importanti delle attività umane, quell'artistica che si collega comunque sempre a qualcosa di bello e di etico, quindi in questo caso mettiamo insieme l'arte con l'etica di una finalità umana molto bella che da Arezzo prende spunto da tanti anni ormai. La musica che fa bene alla solidarietà torna infatti ad Arezzo il 25esimo mercatino in concerto e il 17esimo concorso Barulli. Dal 15 al 27 maggio si terranno i due eventi a favore del Calcit con un ricco programma che si snoderà tra il Circo L'Artistico e la Casa della Musica nel Palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Circa 300 musicisti si alterneranno nel palco, una trentina di scuole di musica, 25 maestri che faranno parte delle nostre giurie, tanta solidarietà come sempre. Ecco, tante le serate, tante le iniziative. Sì, abbiamo sei concerti che partono dal 15 e poi un concorso musicale a categorie come tutti gli anni, solisti, gruppi, musica d'insieme. Torna infatti anche il 17esimo concorso Calcita Gianfranco Barulli. In questa edizione si confronteranno molti giovani musicisti facendo sfoglio delle loro migliori qualità tecnico-artistiche e in questo impeto forte di essere solidali con la sanità retina e questo è un motore molto importante che porta adesioni per questa finalità da tutte le parti.